Sicuramente l'aspetto mentale sarà importantissimo, la scorsa volta siamo entrate un po' impaurite, ci troviamo in un contesto stratosferico contro una nazionale che è al primo posto mondiale attualmente, quindi sicuramente dopo questa esperienza vogliamo fare meglio e poi proiettarci già subito per la partita contro la Slovenia, che è importantissimo anche strappare un solo punto, ci permetterebbe poi di appunto posizionarci come tra le migliori terze dei gironi e niente, vogliamo migliorarci sicuramente. Sappiamo che è difficile, proveremo a fare meglio di come avevamo fatto qualche mese fa appunto in casa della Francia, quello sarà penso l'obiettivo un po' di tutte e sarà una partita in preparazione più alla Slovenia piuttosto che puntare a vincere contro la Francia, punteremo a dare il massimo, quello sicuramente come sempre.